Raga bentornati in un nuovissimo video, nello scorso video abbiamo visto i due scagnozzi spettri ed ombre Che si aggiravano nei pressi di brughiere e brumose ragazzi Per questo speciale Halloween invece andremo a vedere che cosa succede se questi boss torneranno all'autorità E se magari si trasformeranno in dei fantasmi ragazzi per aiutare il boss Mita Secondo me subiranno tipo una trasformazione e all'improvviso boom diventeranno degli spettri Proveremo a portarlo fino all'interno dell'autorità e vedere che cosa succede se subirà una trasformazione Non vedo l'ora, iniziamo direttamente questo video perché sono gasatissimo ragazzi Ma adesso come sempre prima di iniziare la partita andiamo a mandare l'amicizia a uno di voi Che mi ha supportato come creatore nel negozio oggetti, ha commentato più volte spammando il suo ID di Fortnite Ed ha lasciato like al video e l'ha guardato fino alla fine quindi direi GG a te che sei l'iscritto perfetto e andiamo a mandargli subito la richiesta di amicizia Il fortunato di oggi è YoYoSif ragazzi che ha spammato veramente tanto, ha lasciato like Ha supportato come creatore e ha guardato il video fino alla fine quindi direi di mandargli una bella amicizia Perfetto amicizia inviata ragazzi e andiamo a buttarci subitissimo in partita Per vedere se riusciremo a portare lo scagnozzo spettri fino all'autorità e vedere cosa succede Non vedo l'ora, sono gasatissimo, 3, 2, 1 andiamo in partita Ragazzi ormai come sempre questi esperimenti pazzi ci caratterizzano Quindi direi andiamo a berci un goccino di succo che ci porterà fortuna sicuramente Succo mattutino bevuto ragazzi e la nostra curiosità di portare uno scagnozzo all'autorità non manca di certo Però adesso prima che arriviamo dagli scagnozzi ragazzi dovete lasciare assolutamente un like Condividere questo video con un vostro amico e andare ad utilizzare il codice creatore Lollopollo nello shop Mi raccomando fatelo tutti che è importante, vi controllo ragazzi tranquilli Controllo uno ad uno e ringrazierò uno ad uno per ogni supporto che mi date ragazzi Mi raccomando facciamo crescere il canale, arriviamo a 100.000 iscritti entro Natale Vediamo un po' se ci riusciamo Comunque la strategia che andremo ad utilizzare sarà quella di provare a portare gli scagnozzi fino all'autorità Facendoci sparare ragazzi sarà veramente difficile come cosa Innanzitutto troviamoli perché non li vedo ancora Quindi dobbiamo innanzitutto trovarli e portarceli appresso ragazzi Non so se sarà così fattibile ma dobbiamo riuscirci perché noi siamo i veri polli E i veri polli pazzi di questa season riescono a fare tutti gli esperimenti Poi abbiamo anche Thor dorato con il nostro mieditore ragazzi Il nostro mieditore quindi dovremmo per forza riuscirci Prendiamo la macchina e andiamo a cercare i nostri scagnozzi Scagnozzi cari dove siete che vi devo portare in un posto davvero speciale per voi Almeno penso Che poi ragazzi tutto corrisponde non so se avete fatto caso ma All'autorità ragazzi ci sono due sedie vicino allo sgabbello di Mital Il che fa pensare che questi due scagnozzi saranno proprio gli scagnozzi spettri Di cui si parla tantissimo in quest'ultimo periodo Andiamo 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 Dove sono? Dove sono andati? Qui c'è la porta aperta ma non li vedo assolutamente Non ci credo che non ci sono Raga vi immaginate Oh eccolo 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 E perché è da solo? Vi immaginate regà tipo che quello nero se n'è già andato E noi siamo arrivati troppo tardi Tipo questo bianco sta andando già all'autorità Sarebbe veramente troppo ragazzi Sarebbe veramente troppo lo so benissimo Comunque dobbiamo aspettare che si allontani leggermente Perché dovremmo riuscire a portarlo fino all'autorità rega Quindi si deve allontanare leggermente da questa casa Dobbiamo aspettare che percorra tutto quanto il ponte E da lì giù potremmo iniziarci a far sparare Ah cavolo Scagnozzo Ombre Buonasera È un piacere averla qui Non mi serve lei Mi serve solo quello spettri Perché io penso che quello spettri diventi un spettro Tu invece ombra Tornerai un'ombra Com'è giusto che sia Allora scagnozzini cari Siete pronti all'avventura? State per tornare Finalmente alla vostra autorità Da dove siete partiti rega? Da dove siete partiti? Finalmente tornerete lì Beh tu un po' meno Tu un po' meno Tu un po' di più Dai che cosa state facendo? Veloci C'è l'autorità che ci aspetta Non possiamo perdere tempo Dai cavolo Sbrigatevi Correte Ah mio dio Intanto io spacco gli alberi Ragazzi non so che cosa fare Non so come portarli Dobbiamo inventarci un modo assurdo ragazzi Inventiamocelo Inventiamocelo adesso Ragazzi Il nostro tor sta guidando la sua macchina E lo scagnozzo spettri È qui giù rega Spettri Sì sì lo scagnozzo spettri Si chiama Ho avuto il nome giusto Per una volta Per una volta ho cercato i nomi rega Non li azzecco mai Cioè è una cosa incredibile Allora caro scagnozzo mio Ti prego Fai quello che devi fare E seguimi Per favore Ti scongiuro Io gli spara un piede ragazzi Non l'ho preso Preso Ok Anzi facciamo una cosa Facciamo fuori quello ombre Ok andiamo Andiamo con quello spettri Vediamo se ci segue ragazzi Vieni 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 Oh mio dio mi sta sparando tantissimo Vieni vieni scagnozzo vieni Ok forse potrebbe funzionare ragazzi Se facciamo zig zag potrebbe funzionare Vai andiamo andiamo Ci sta seguendo Ci sta seguendo E ce lo portiamo dritti dritti all'autorità rega Ragazzi guardate lo scagnozzo ci sta seguendo Adesso ce lo portiamo direttamente all'autorità Dai 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 Non ci credo Vediamo che cosa succede Oh mio dio mi sta seguendo Vai vai ancora un po' Ancora un po' avanti Vieni vieni scagnozzo vieni Vieni con me Vieni vieni dai Andiamo 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 Che cosa sta succedendo Perché ti sei fermato Andiamo È un albero Perché Vieni vieni Perfetto Vieni ancora Bravo 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 Seguimi seguimi che l'autorità è molto vicina Andiamo andiamo scagnozzo andiamo Andiamo raga sta funzionando Proviamo a portarlo a piedi Eccolo Vieni 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 Ragazzi Aia Andiamo 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 Ci sta seguendo Sta funzionando raga Mangiamo i funghi così se ci colpisce non ci fa niente Oh mio dio Vieni Vai si sta avvicinando tantissimo ragazzi Si sta allontanando tantissimo dalla sua zona Ti prego vieni Vieni bro Vieni 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 qua Oh mio dio si sta avvicinando ancora Dai vieni 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 ce la facciamo raga Secondo me ce la potremmo fare Andiamo avanti Andiamo ancora un po' avanti Vediamo un po' se ci No raga non ci segue Non ci credo Si è fermato Si è fermato lì C'è tipo una barriera Guardate C'è tipo una barriera invisibile Che non lo fa passare Non ci voglio credere Dobbiamo scogitare un modo ragazzi Dobbiamo scogitare un piano I veri polli I veri polli sanno sempre cosa fare I veri polli sanno sempre cosa fare I veri polli sanno sempre cosa fare Che cosa facciamo polli Aiuto 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 Allora un vero esperimento Un vero esperimento Deve concludersi per bene ragazzi Dobbiamo riuscire a portarcelo Vediamo un po' Allora 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 cari amici Cari amici cari amici Qualcosa dobbiamo inventarci Non possiamo lasciarcelo scappare così Deve seguirci per forza Sta arrivando anche la safe Cavolo non ci avevo pensato Non ci credo Scagnozzo sei inutile Ragazzi è venuta un'idea spettacolare Andiamo a modificare le opzioni di partita Della nostra parco giochi Del nostro laboratorio della battaglia E togliamo la gravità ragazzi Togliamo la gravità La mettiamo come forza un asteroide In modo che lo scagnozzo Non potendo Non potendo restare a terra appunto Ma volerà Riusciremo a portarlo facilmente in teoria Vediamo un po' Saluto al massimo Si scudi Scudi pieni Mettiamo anche Luogo di generazione Mettiamo Brughiere e Brumost Se c'è Perfetto Danni da caduta Mettiamo no E avviamo questa partita ragazzi Cioè regà Dovete lasciare un like Solamente per queste cose Che sto facendo Per farvi vedere Che cosa succede Io voglio un like Per questi esperimenti Di questa stagione 4 Regà perché stiamo Spaccando tutto YouTube Cioè stiamo veramente Facendo il devasto Grazie mille a tutti Per tutto il supporto Che mi state lasciando Ragazzi Grazie mille E vi ricordo Lasciate subito un like Se non l'avete fatto Iscrivetevi al canale Perché siamo veramente Vicinissimi ai 100.000 iscritti Sapete cosa Potremmo utilizzare Una canna da pesca Altrimenti Travolo si Una canna da pesca Oh mio dio Guardate come si vola Dai così Lo scagnozzo Non ha scuse ragazzi Se non ci seguo adesso Non ci seguo più Vediamo dove è Vediamo dove è ragazzi Cerchiamolo al volo Scagnozzo dove sei Ti sto aspettando Scagnozzo Oh guardate come vogliamo Oh mio dio Ragazzi Questa è una delle cose Più pazze Che io abbia mai fatto Guardate qui Eccolo 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 Proviamo a pescarlo Prima che rientri in casa Ti prego Ti prego Allora Vieni con me Oh mio dio No 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 Ragazzi No sono caduto Cioè sono volato in aria Perché è caduto Prendiamolo E portiamocelo via No raga Perché va dall'altra parte Pesca questo scagnozzo Ragazzi Non ci credo È diventato un nuovo sport nazionale Ragazzi La pesca allo scagnozzo Vediamo un po' Se a bocca Ricordiamoci di non saltare Allora Prendiamolo al amo Boom Vieni con me Vieni tenere l'autorità Scagnozzo So che ce la puoi fare Vieni via Oh guardate come vola Oh mio dio Ragazzi state vedendo Il percorso Allora Se io Se io scagnozzo Faccio una cosa del genere E ti besco verso di me Tu in teoria Dovresti Per ricordo di logica Venire Oh se riesco a prenderlo Ovviamente Venire verso di me Invece no ragazzi Vado talmente Dalla parte opposta Ma che cacchio Ma che cosa sta succedendo Questo scagnozzo Ragazzi È tutto buggato Quest'anno Anzi Questo aggiornamento Non quest'anno Perché quest'anno Eccolo No ragazzi No io non ci credo Io non ci voglio credere Che questi dell'epic Hanno fatto questa cosa assurda Per non farci portare Lo scagnozzo All'autorità Secondo me è tutto fatto apposta Ragazzi E se lo pescassimo Da così davanti Di fronte Continuerebbe ad andare Indietro oppure no Attenzione Questo ha fatto Questa volta Ho fatto un bel salto Dai Oh mio dio Però l'ho fatto anche io Un bel salto Via Vieni con me Sì 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 Vieni proprio con me È all'interno del lago ragazzi È all'interno del lago Vediamo se riusciamo Tipo così A prenderlo di nuovo Oh mio dio Ha saltato raga Vai Vai scagnozzo Vola come sono tu Stai fare Vai Vieni Vieni Ok Riprendiamola ancora No Così peschiamo i pesci Vieni No così peschiamo i pesci Di nuovo Vieni scagno No raga Non ci credo Che non riusciamo Non è possibile Devo riuscirci per forza Vai Vola via Sì adesso è molto più vicino Adesso è molto più vicino Potremmo farcela di nuovo No va dai ragazzi Non è possibile Vieni 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 No se ne arriva lì Non è possibile Che ci hanno fregato In questo modo stavolta E non Non mi arrendo Lollo pollo raga Non si arrende Lo sapete Come sapete Un vero pollo ragazzi Che fa gli esperimenti Su falteret Non si deve arrendere mai Adesso che cosa facciamo Ci puntiamo all'autorità Andiamo a controllare Se tante volte Fosse comparso uno scagnozzo Totalmente a caso E magari il gioco Ha deciso di non farci portare L'altro scagnozzo Perché altrimenti Avremmo scoperto un segreto Tipo Boom Assurdo Però non penso sia così Non penso andrà così ragazzi Lo sapete meglio di me Che non andrà così Anzi fatemi sapere Qui sotto nei commenti Cosa ne pensate Di questo aggiornamento Di Halloween E secondo voi Che cosa succederà Con gli scagnozzi Intanto io mi butto qui Apriamo qui il muro E vediamo che cosa succede Vediamo un po' Se ci sarà lo scagnozzo No c'è solo un nemico Che mi spara No raga no 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 Lasciami in pace Lasciami in pace Lasciami in pace No non ci credo Che dirvi ragazzi Non abbiamo scoperto Troppissimo oggi Soltanto che lo scagnozzo Anzi gli scagnozzi Non si possono spostare Della zona dove sono E questa è una novità clamorosa Cioè Pensate Poterli portare fino all'autorità E farli trasformare In dei fantasmi E diventare nuovi scagnozzi Sarebbe stato assurdo Comunque Grazie mille a tutti per la visione Ci vediamo domani Con un nuovissimo video Una nuovissima live Mi raccomando Lasciate un bel like Condividete il video Iscrivetevi Adesso compariranno dei video Che cliccate Trovate sempre il mio bel faccino E ci vediamo lì Bella a tutti